Questi due bravi ragazzi li ho conosciuti tempo fa, poi magari saranno loro a spoilerare dove ci siamo conosciuti e settimana scorsa il ragazzo più giovane, cioè Giuseppe, ha detto ma avrei bisogno di parlare di questa cosa, ho bisogno di queste informazioni, cosa possiamo fare? Guarda, forse è meglio se ci sentiamo in diretta e così mi fai tutte le domande, ricicliamo il tutto un po' come se dovessi chiedere notizie di borsa a Manuele Marini che è collegato in questo momento cosa c'è di meglio che fare una diretta insomma? Manuele ti tolgo il video perché così mi rimani fuori dalla registrazione e non andiamo a sporcarlo con altre cose quindi niente, molto semplice, abbiamo approfondito e approfittato di questa situazione quindi io faccio finta di essere l'ospite del giorno anche se poi la stanza in realtà è mia e lascio la parola a Valentina Panizza e Giuseppe Tringali o Tringali dipende, Tringali, Tringali, Tringali entrambi soci di, lo scopriremo tra poco e sono tutto vostro, tartassatemi quanto volete allora comincio io che sono un po' quello che ti ha scomodato per primo mi presento, mi chiamo Giuseppe, sono nel tempo libero imprenditore ho un'azienda di cui vi racconterò presto perché ho bisogno di avere un corso e per passione condivido la partecipazione a un'associazione non profit che si chiama Toastmasters International che professa il miglioramento delle persone attraverso il public speaking e la leadership però come tutte le associazioni che hanno tante regole, tante cose, tante informazioni da divulgare parlando con Valentina ci siamo accorti che non c'è un sistema efficace per poter diffonderle se non forse addirittura un corso, un area learning siccome ti conosco Davide per tante cose, ti seguivo dai tempi del libro sulla gestione del tempo che ho comprato e applicato molto bene i segreti militari del sergente istruttore esatto, si è venuto in mente perché l'ultimo messaggio che stai divulgando in maniera molto efficace quello appunto di poter creare un proprio corso per la propria attività o per quello che vuoi divulgare e mi si è accesa la lampadina e quindi l'ho condiviso con Valentina e gli altri ragazzi ho detto dobbiamo parlarne con Davide ed eccoci qua sì, 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 sì io appunto mi sono spostato dal mondo della crescita personale in realtà più era dell'organizzazione del tempo e della produttività che comunque resta in questo settore qui della creazione dei corsi online che in realtà è un settore molto ampio che tu puoi andare ad applicare in realtà come se fosse un super mega strumento a qualunque tipo di realtà perché c'è chi vuole vendere corsi online e quindi giustamente ha bisogno del prodotto di per sé ma ci sono realtà no profit come Toastmasters International ma potrebbe essere, che ne so, la Chiesa Cattolica per darti un'idea profit vabbè insomma di qua potremmo aprire abbastanza una parentesi però all'interno c'è bisogno di fare istruzione fondamentalmente e quindi siccome lo scopo non è uno scopo di lucro ma all'interno le persone devono capire come funzionano determinati meccanismi devono capire determinati ruoli e comunque per farlo spesso c'è bisogno di trovarsi c'è bisogno che ci sia una persona deputata a imparare prima quello che deve spiegare poi a spiegarlo, a spiegarlo in maniera ottimale e non sempre tutti sono Toastmasters per cui diciamo hanno una certa abilità o esperienza nel parlare in pubblico e soprattutto questa cosa diciamocelo diventa un po' una rottura di palle dopo un po' perché tu devi ripetere delle stesse cose che magari per cento volte sono uguali, spiaccicate perché ormai la best practice è quella e quindi prima le dice Giuseppe poi le dice Valentina poi le dice Lorenzo poi le dice Francesca Gammicchia però tutti hanno dovuto impararle ognuno più o meno può avere giustamente anche il suo modalità di interazione che ci sta benissimo però di fatto si tratta di reinventare oltre volte la ruota quindi c'è secondo me un modo più intelligente e più produttivo per ciascuna realtà per come dire impegnare il proprio tempo e una volta che hai standardizzato quello che è la tua Bibbia, il tuo Vangelo metterlo nero su bianco chiaro lo puoi fare con un libro però il libro è limitativo per certi versi mentre determinate procedure, processi, abilità ovviamente è molto più facile spiegarle con un videocorso sostanzialmente quindi ovunque ci sia da spiegare qualcosa che tu lo voglia fare a scopo di lucro o a scopo di training interno profit, non profit per l'organizzazione tipo los masters per la tua organizzazione di... non lo dico perché poi lo direi tu chiunque nel mondo HR arrivano diecinove persone e devi fargli il training vero tu puoi aggiungere del coaching, del tutoring, tutto quello che vuoi ma il grosso è quello cioè se devo spiegarti come si fanno un integrale un integrale lo trovi spiegato nel corso poi se vuoi fare un po' di pratica te lo fai con qualcuno di... un mentore aziendale o qualcuno a livello di coaching interno e sfrutti meglio secondo me anche proprio tutte le risorse oltre che questa cosa importante diventa un asset aziendale veramente importante perché comunque rimane nel tempo io vendo l'azienda e vendo di fatto anche il sistema di training interno all'azienda, alla multinazionale, al no profit tutto quello che mi interessa insomma quindi non è soltanto un aiuto alla gente a creare corsi perché ci puoi fare i soldi con i corsi questa è una parte in realtà c'è anche tutto questo back end molto importante che secondo me è utile che soprattutto adesso che si va anche nel mondo più online c'è lo smart working c'è la gente che ormai non sa più neanche dove stia l'azienda fisica perché lavorano sei mesi da fuori tre mesi lavorano dalle vacanze giusto due o tre mesi lavorano dall'ufficio secondo me è figo perché comunque hai un repository gigantesco in tutti arrivano prendono quello che gli serve e basta senza c'è bisogno di condividerlo col mondo nessuno sa che magari Giuseppe dentro la sua azienda ha creato un corso da dieci ore di training per le persone che segue lui o i suoi clienti interni in qualche modo però lui è contentissimo questa cosa gli può servire l'hai venduto? zero ma chi se ne frega a te ha risparmiato decino centinaia di ore di lavoro dal punto di vista proprio del training delle tue persone poi è anche molto facile da aggiornare aggiungi una lezione è uscito questa nuova cosa aggiungi una lezione training e aggiornato insomma lo puoi fare da tutto il mondo quando vuoi pre-registrato lo guardi da cellulare lo guardi da destra è una figata insomma ragazzi italian grammarian non so che non si può dire però insomma ci sta è proprio così Davide ora entro un attimo metto il cappello commerciale poi c'è la parola vediamo che cosa faccio di mestiere io aiuto le famiglie a risolvere un problema annoso e fastidioso come quello della muffa in casa che magari per voi che non vi è mai capitato è qualcosa che si può pulire con la candeggina ma in realtà se le hai provate tutte e non hai risolto il primo problema che hai è raccogliere le informazioni per prendere una decisione quindi io devo essere fra virgolette fortunato nel intercettarti nella ricerca su Google se ho intercettato il tuo come fare per magari mi leggi e a quel punto inizia un percorso però c'è un problema caro Davide Valentina che oggi la gente non ha più tanta voglia di leggere gli articoli del blog come cinque anni fa quindi ci sta di raccogliere informazioni c'è chi gli dare ebook lo faccio anch'io però mi sono reso conto che quello che funzionano sono le videopillole post su Facebook condivisioni scontri tra hater o comunque fruizione di materiale un po' non convenzionale allora mi sto rendendo conto che tutta l'enciclopedia della muffa che ho creato sul web rischia di diventare un po' inutilizzata ed ecco che un area learning che quindi nel mio progetto non mira a vendere può essere uno strumento educativo per formare i miei collaboratori spiegare al potenziale cliente con un percorso tipo livelli vari ogni livello ti insegna delle cose poi alla fine magari vuoi lavorare con me come funziona ma soprattutto per me nella mia app dice sostituisci il manuale di applicazione dei prodotti e tu che hai usato il mio trattamento immagina come sarebbe stato avere via cellulare il modulo A per usare il primo prodotto quindi siccome sto facendo tanti corsi di formazione da casa in questo nuovo lockdown e mi sono reso conto che io sono circondato da area learning qualunque cosa io faccia allora mi sono chiesto perché non aggiungere anche la mia visto che ce ne sono tante e quindi eccomi qua a portare questa richiesta che però nasce ricordiamoci dall'idea della nostra associazione Toastmaster e poi lì la lampadina mi si è accesa per altri utilizzi tra l'altro hai detto una cosa molto interessante che tu dici io lato YouTube lato Facebook soprattutto nel tuo caso condivido tante videopillole che ci stanno tra l'altro io sto leggendo un libro molto interessante che mi permetto di consigliare a tutti che si chiama Show Your Work che di fatto è tutto sulla condivisione del processo e non del prodotto mentre prima si era abituati a creare il prodotto finale fregandosene del processo e di quello che succede durante il processo diciamo che i tempi sono un po' cambiati e quindi anche grazie ai social c'è la possibilità di interagire meglio con le persone andando a creare più community e più interesse poi per il prodotto finale condividendo il processo detto questo cosa succede quando tu crei tanti contenuti quotidiani le videopillole che sono molto interessanti il problema è che spesso in mezzo a tutto questo si perde il processo cioè ok tu condividi il pezzo della muffa la muffa in giardino va bene ma poi c'è la muffa di qua la muffa di là oggi c'è un caso particolare sulla muffa questo non devi usarlo se c'è la muffa la candeggina e quant'altro vanno benissimo come cose però se uno parte da zero ha bisogno di un qualcosa di uno strumento che gli dia proprio l'abc in maniera graduale proprio come se fosse un processo scolastico in qualche modo dove tu vai da un certo punto di vista a capire e a fare anche se è possibile un assessment di quello che sai di quello che sa fare la persona dall'altra parte perché altrimenti c'è un problema di sbilanciamento di quello che tu dici rispetto a quello che è il suo livello cioè io lo dico sempre se tu sei troppo giù diciamo e dai delle informazioni troppo su a quello che dà l'altra parte questo qua si sente un pirla e non segue il tuo corso che sia gratis o pagamento è quasi irrilevante al contrario si rompe i coglioni perché giustamente è troppo facile e sono troppo difficili e io lo so già troppo è troppo banale quindi non lo seguo quindi già un primo scoglio secondo me che va affrontato molto bene e pianificato che tra l'altro una delle cose più difficili in realtà da fare è proprio fare questo mini assessment iniziale dall'altra parte hai fatto quello capire come mettere insieme le migliaia di informazioni che tu hai perché tu sei come dire la treccani della muffa in Italia però se io non sono un treccani e voglio essere il bignami della muffa perché se tu mi vendi la treccani a me che sono un bignami ho il problema che dicevamo prima cioè c'è troppa roba e non so più da che parte cominciare quindi tu devi fare una specie di asciugatura di riduzione di tutto quello che sai metterlo all'interno di un processo rodato e quant'altro e a quel punto distribuirlo alle persone perché ci sarà uno che vuole una cosa uno che vuole un'altra quindi tu vai a creare dei mini percorsi tipo per intenderci quello che succede dentro il nuovo Toastmasters che io osa che ho odiato tantissimo prima di uscire da Toastmasters però Valentina che sotto sicuramente ha apprezzato molto di più che è il discorso di Pathways Pathways fa una cosa fichissima che è questo assessment con tutte le domande in funzione di quello dice e dei tuoi obiettivi ma secondo me il tuo percorso di miglioramento all'interno del gruppo Toastmasters è dato da uno, due, tre cose l'ipotesi poi magari è migliorato negli ultimi due o tre anni però è bello è interessante perché con poche domande la gente capisce già che cosa gli serve senza impazzire per migliorare le proprie conoscenze e poi le proprie le proprie competenze quindi creare un processo più piccolo anche da un'ora poi lo puoi fare da un'ora e mezza due ore è quello che ti serve senza anche se tu hai creato potenzialmente cento ore di video questi cento ore tu non puoi buttarli dentro un videocorso perché la gente non te lo guarda tutto si spara nei nei gioelli di famiglia non gli serve cioè in realtà gli stai facendo un disservizio sono proprio due funzionalità due verse è un po' come il discorso che tanti mi chiedono quando devono cominciare a fare un corso ma tutte queste cose sono disponibili gratis su youtube è vero è vero e a dirla del tutto ci sono molti video gratis su youtube che sono una figata pazzesca cioè ma il problema è che spesso manca un processo un po' più organico che ti parte dalla zero arriva dalla A arriva alla Z anche più semplificato di quello che puoi che puoi trovare su youtube e questo secondo me invece uno che è esperto oppure anche aziendalmente parlando l'azienda sa tantissime cose ma uno che parte non puoi dirgli tutto ok livello 1 io ti spiego questo quando sei arrivato al livello 2 ti faccio l'esamino interno quello che è e ti spiego quest'altra cosa altrimenti sarebbe come dare in mano il tomo di ingegneria a un ragazzo delle elementari è vero che c'è più roba più figa il problema è che quello che non capisce un cazzo di sta roba quindi va messo tutto per step grazie Davide e infatti anche noi quando abbiamo iniziato a pensare a questo percorso per Toastmaster dove appunto i percorsi di apprendimenti Pathways ci sono già dal nostro punto di vista la necessità era orientarsi in tutte le altre possibilità non solo Pathways e capire anche i ruoli per chi non conoscesse Toastmaster 10 secondi vai 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 alla grande sì sì è un'associazione non profit per imparare ed esercitarsi anche a parlare in pubblico a diventare migliori leader e si ricevono continuamente feedback e ci si allena anche nel dare feedback e valutazioni quindi e qui è dove ci siamo conosciuti tutti e tre io Davide e Giuseppe esatto di fatto è la palestra esatto e appunto come diceva anche Davide ma anche Giuseppe prima spesso quando arriva un nuovo socio grazie Davide per la condivisione del sito Toastmaster.org chi interessasse quando arriva un nuovo socio si ripete ogni volta il processo di onboarding quindi di spiegazione di tutte le basi che comunque porta via tempo e sappiamo che il nostro tempo è la risorsa più limitata che abbiamo quindi appunto lo stiamo pensando per l'associazione poi stanno nascendo tantissimi nuovi club abbiamo 10 nuovi club quest'anno che stanno nascendo pensate in Italia ce ne sono 25 anzi 27 con i due nuovi arrivati quindi si va c'è un più 50% quasi si andrà a fare bello bello sono contento e però a maggior ragione diventando da più piccoli a una crescita più veloce e questo penso che possa essere anche una casistica comune ad altri a maggior ragione c'è bisogno di semplificare standardizzare e dare delle risorse chiare disponibili dove si possono orientare perché in Toastmaster si dice c'è già un manuale per tutto sì ma dove lo trovo sì oltre al fatto che molti materiali sono in inglese e sappiamo che in Italia non tutti parlano così bene inglese quindi anche quella è una barriera la presenza di un eccesso di materiale paradossalmente come dicevo prima è proprio è più un problema che un pro a un certo livello esatto infatti mi ci sono ritrovata totalmente come mi sono ritrovata in quello che dicevi del riuscire a capire il livello di partenza e anche in questo senso fare magari anche contenuti molto brevi dove ognuno può andare al punto che interessa magari con un'introduzione panoramica per far capire i contenuti questa era un po' la nostra idea e poi dei contenuti molto brevi in modo che ognuno potesse andare direttamente a quello che interessava magari saltando le basi è proprio molto rispettoso nei confronti anche del tempo delle persone che stanno ascoltando del tempo e dell'intelligenza però questo te lo do come consiglio in generale a voi tutti ma anche a chi sta ascoltando diciamo extra c'è un problema nel discorso dei video molto grosso che è poi il grosso problema dei video anche su youtube cioè il video al di là dei nuovi video che possono essere divisi in capitoli tipo youtube per intenderci che è molto molto comodo in realtà spesso video di formazione durano 10 minuti un quarto d'ora mezz'ora può capitare insomma allora cosa succede che magari io che sono un pelo più esperto di solito capita in questo caso con chi è più esperto vado a cercare guardo il video per sapere un contenuto specifico perché nella promessa in qualche modo rimango attratto da questa promessa e quindi so che ci sarà quella roba lì il problema è che sono costretto a guardarmi mezz'ora di video e io spesso magari li guardo uno per due per per velocizzare le cose se trovo qualcuno che non parla veloce come me sennò devo rallentarlo un attimo però sono obbligato a vederlo per cercare veramente lago nel pagliaio allora il mio suggerimento è sempre ove possibile tipo associazione di Toastmaster ma anche per Giuseppe e le aziende in generale è sempre tenere un qualcosa di scritto digitale ovviamente che funga un po' da indice o da super riassunto di quello che c'è nella parte video perché così io vado a capire rapidamente nella parte scritta dove vado dove posso andarmi a prendere quell'informazione lì nel video proprio dicendo parlo di quella roba lì al minuto 11.25 del resto non me ne frega niente ma io vado a vedere quei tre minuti lì poi arrivederci grazie non mi devi costringere a vedere mezz'ora di video sperando che io trovi dentro il regalo o lago cioè non devo buttare via tutto il pagliaio fondamentalmente su questo cosa ne pensi di chi consiglia anche di trascrivere il video magari supportandosi anche con strumenti di trascrizione automatica perché appunto c'è anche chi ama i video e chi non li può sopportare preferisce leggere siamo in casa siamo in così cioè io adoro i video però capisco che c'è il problema di questa cosa qua quindi diciamo purtroppo mi tiro il naso e il mando giù a fatica e cerco di velocizzare a due per quant'altro però sto apprezzando molto poi infatti anche il motivo per cui anche io quando li carico su youtube spesso le interviste le divido già in capitoli quando faccio le domande vado a mettere la domanda perché secondo me è utile che uno possa saltare avanti e indietro mia moglie odia i video quindi pur essendo giornalista avendo fatto la roba lei odia i video e quindi si rompe le scatole terribilmente e preferisce leggere le cose anche se sono più lunghe quindi secondo me è rispettoso di entrambe le modalità tenendo presente un ulteriore aspetto che secondo me tutti e due devono sempre esserci perché il video in qualche modo ti porta gratis l'audio e quindi mentre tu vai a correre sei in bicicletta fai avanti e indietro dalla metropolitana o che cosa cuffiette ti puoi ascoltare diciamo fai partire youtube fai partire la lezione te l'ascolti non te la puoi vedere spesso come succedeva a me ad esempio quando lavoravo a corsi.it facevo mezz'ora di strada all'andata mezz'ora al ritorno e mi vedevo i nostri videocorsi cioè più che me li vedevo giustamente me li ascoltavo perché ero in macchina se non potevo schiantarmi dalla mattina alla sera per cui anche quando poi vai a creare un video o un videocorso di questo tipo devi un po' pensare anche alla modalità di fruizione di questa cosa perché questo è soprattutto lo dico per chi lo fa per il mondo aziendale quindi che non lo fa per venderlo ma lo fa per fare training interno se la volete pensare bene dovete capire il vostro pubblico interno i vostri clienti interni in che modo e come fruiranno di questi contenuti perché se gente che si fa sempre mediamente insomma mezz'ora di strada in auto o con mezzi pubblici non potrà vederlo il video quindi soprattutto potrà ascoltarlo magari non sarà concentrato al 100% e quindi dal punto di vista proprio della creo gli slide faccio fare gli esercizi ripeto le informazioni deve esserci più questa parte di ripetizione non dico usque ad nauseam però molto di più che in un video che ti puoi guardare mezz'ora due ore comodo tranquillo dal desktop del pc davanti a casa tua senza nessuno che ti rompe le balle cioè cambia tanto perché se io sono in auto sono concentrato a metà quindi tu mi dici mi mostri delle cose ma io non le posso vedere parli veloce ma io sono attento al semaforo che è diventato rosso verde ma cazzo l'ho persa con l'informazione lì capisci è più una rottura di scatole da preparare un corso del genere però se lo fai come training interno pensato proprio per la gente che fa avanti e indietro per arrivare al lavoro secondo me potrebbe essere ma non dico subito però lavorandoci alla versione 2.0 la 3.0 una volta che hai diciamo creato il grosso dei contenuti e secondo me si parte dalla creazione dei contenuti più che dalla forma nel caso di questo tipo però dopo ci lavorerei sopra anche in funzione dei feedback delle persone perché soprattutto quando hai tanta gente tanti feedback diventa anche come dire al di là dell'asset statisticamente significativo fare questo tipo di lavoro è chiaro che se fai il corso per tre persone fai forse quasi prima spiegarglielo a mano per intenderci non lo farei comunque non lo farei però è chiaro che hai un effetto leva pazzesco a tuo vantaggio in questo caso chiarissimo anzi grazie mille infatti come accennava Giuseppe visto che ne abbiamo parlato prima poi da questo progetto Toastmaster sono date anche altre idee per applicarlo poi anche per me in ambito professionale aziendale io sono libera professionista così facevo anche il momento di presentazione che non abbiamo ancora fatto io sono libera professionista mi occupo di consulenza business e quindi business planning controllo di gestione ma anche sviluppo e ho fondato anche una start up ormai diversi anni fa che si occupa invece di tutela proprietà intellettuale che è un servizio online per la tutela della proprietà intellettuale cita cita pure i nomi qua citiamo tutto prufi.co quindi pr-o-o-f york punto c-o appunto anche qui chiaramente il settore della proprietà intellettuale è sconosciuto ai più perché la confusione tra diritto d'autore brevetti e tutto il resto è altissima e proprio per questo abbiamo facciamo ormai da tanto eventi prima dal vivo ora webinar e anche lì stiamo pensando di mettere a disposizione alcune cose di base direttamente o anche tutti cioè organizzare meglio anche i tutorial perché anche sui tutorial sull'uso di un'altra piattaforma quando ci sono domande avere un video pre-registrato fatto prima sulla cosa specifica organizzato è molto utile quindi anche anche in quel senso ci stiamo pensando e qui faccio un passo avanti e ti faccio una domanda in più su appunto condivido spero che sia il sito giusto non di qualche cosa assolutamente sì ok qui c'è l'immagine perché siamo stati premiati dalla commissione europea col sigillo di eccellenza per il progetto quindi siamo stati anche finanziati dalla commissione europea per questo progetto tanto di cappello dopo andiamo a recuperare anche basta muffa se no ci manda muffa per tutte le arriva il periodo brutto umido dopo Giuseppe giustamente giustissimo perché prima scherzavi con un angolino di muffa adesso non c'è ma anche lì con Giuseppe abbiamo visto e ha risolto brillantemente un problema che avevamo avuto quindi assolutamente super esperto super consigliato e mi ha fatto scoprire anche tante cose che non sapevo guarda mettiamo anche Giuseppe così siamo a posto eccolo qua è lui è lui signori è lui è proprio lui in persona ok mi stavi chiedendo Valentina mi stavo chiedendo a livello anche di gestione dell'accessibilità del corso alcuni li vorremmo dare gratuiti altri appunto magari li vogliono fare a pagamento alcuni visibili altri nascosti come si gestiscono c'è qualche piattaforma che suggerisci ce ne saranno mille però magari un po' di pro e di contro se hai qualche preferita visto che ne avrei usate tantissime allora ci sono vari ragionamenti da fare quando c'è di mezzo la scelta della piattaforma dico per te dico anche per Toastmasters diciamo che come Toastmasters come numero sono sicuramente molto di più però essendo no profit magari hanno qualche limite di vincolo di budget un po' un po' più stretto voi siete un pelo più profit però siete di meno quindi diciamo che sono pro e contro in entrambi in entrambi i casi una delle prime cose sulle quali invito sempre a ragionare è il discorso per esempio del brand cioè ci sono tante piattaforme dicono Teachable Thinkific Udemy Corsi.it no perché fa un discorso leggermente diverso rispetto a Udemy non è possibile che uno si sveglia il mattino e dice pubblico su Corsi.it non funziona più così la cosa però Udemy sì altre piattaforme un pochino più un pelo diverse sì qual è il vantaggio loro? il vantaggio è che sostanzialmente ti dimentichi della piattaforma quindi tutta la enorme rottura di scatole tecnica nel metto sulla piattaforma se poi la devo basare su WordPress perché ci sono una tonnellata di plugin di WordPress più o meno gratuiti che ti permettono di fare delle cose fichissime il problema è che devi avere dietro devi avere il server il server performante il server sicuro la persona che comunque lo tiene aggiornato lato WordPress perché i plugin se no te li buccano quell'altra se no te lo buccano WordPress te lo buccano ce ne succede una ogni due per tre ce n'è una potenzialmente e quindi secondo me se all'inizio soprattutto all'inizio non hai le risorse che vuol dire almeno una persona da dedicare diciamo il vostro IT manager in qualche modo anche se non è full time part time da dedicargli a star cosa qua io ci penserei un pochino a tenermi tutto in casa per questa ragione molto semplice perché nel momento in cui ti cresce tutto te la buccano tu rimani senza la piattaforma di learning dall'altra parte Teachable Udemy o quant'altro hanno invece la struttura chiaramente potrebbe essere buccabile anche da parte da parte loro però giustamente non non devi preoccuparti di impiantarla tutta questa tutta questa struttura quindi all'inizio partirei più schiscio come si dice su delle nostre parti più tranquillo se non ho una parte di infrastruttura diciamo di IT manager qual è infatti il problema dall'altra parte che Teachable Thinkific oppure Udemy hanno tutta la cosa che funziona discretamente bene devo dire che molte cose permettono di farle allegramente e ad esempio Udemy lo puoi creare un corso a costi ridicoli nel senso è gratuito e poi dividi quelle che sono le commissioni Teachable o Thinkific a seconda dei vari piani tu hai anche il piano gratuito paghi un tot di fee che potrebbe essere 5% fino ai piani più alti non paghi praticamente nulla di commissioni paghi un tot al mese per la piattaforma il problema è che non è una piattaforma al 100% personalizzabile Udemy per niente Thinkific e Teachable a secondo dei piani ti danno un po' più di spazio diciamo però se tu vuoi qualcosa di perfettamente coordinato con il tuo brand qualcosa che non si mischi potenzialmente alle cose degli altri qualcosa che magari sia anche totalmente integrato al tuo back-end al CRM sistemi di gestione quant'altro diciamo che Teachable soprattutto Thinkific un po' meno Udemy zero hanno dei plug-in sempre che ti permettono un po' di parlottare tra tutti i sistemi e ti agevolano anche dal punto della mailing list anche questo non l'abbiamo considerato che è altrettanto importante di far parlare un po' questi sistemi però cominciano di nuovo a essere tanti pezzi e quindi di fatto per capirle esattamente qual è quello che fa il caso tuo e tenere insieme tutta la baracca di nuovo secondo me serve proprio una persona che ci capisca e quindi se ce l'hai questa persona e hai quindi probabilmente anche il budget per farlo secondo me piattaforme di e-learning basate su anche WordPress quindi ad esempio sto installando LearnDash sul mio sul mio sistema poi c'è Talent LMS ci sono altri si chiamano tutti LMS cioè Learning Management System simili alla LearnDash sostanzialmente che all'interno spesso hanno anche delle cose collegate alla gamification quindi ti permettono di fare storia storia dei livelli dei badge tutte queste cose super fighe però da configurare ragazzi cioè è un casino e ve lo dice io cioè ve lo dico io che sono abbastanza smanettone cioè più c'è da tenere in ballo tutto e tutto il resto quindi se dovessi partire da zero con un minimo di turarmi il naso come direbbe Boa Montanelli io userei una piattaforma tipo Teachable starei lontano da Udemy non per altro perché appunto non ti permette integrazioni praticamente con nulla dal punto di vista dei prezzi non hai la libertà di gestire tu il prezzo spesso fanno degli sconti molto alti che per certi versi potrebbero servire come seccanismo di lead generation io metto anche su Udemy volendo un corso low cost in modo tale che me lo tiro dentro cioè anziché darlo gratis lo metto 5 euro su Udemy ci guadagno e ci guadagno un cliente per certi versi quindi in generale la userei anche come piattaforma però non la userei come la mia piattaforma di partenza io se fosse nel vostro caso Teachable è Toastmaster o vostro butterei tutto su Teachable per intenderci con la versione gratuita o la versione a pagamento da 30 dollari al mese una roba del genere dove puoi comunque creare il corso il corso gli puoi mettere più piani di prezzo puoi creare dei bundle tra i corsi hai comunque già dentro il sistema con i quiz puoi creare dei coupon scontati e comunque dal punto di vista anche grafico puoi lavorare un minimo dal punto di vista della personalizzazione senza contare che Teachable si integra benissimo con molti sistemi tramite questi questi connettori questi API o i plugin e quindi di fatto se hai un sistema di mailing list tipo MailChimp tipo ActiveCampaign o altro lo compro da una parte compro Teachable con Zapier che poi è un altro sistema che serve un po' a incrociare tutti questi dati riesco a farli parlare abbastanza agevolmente dico abbastanza perché non è mai scontata come cosa detto questo conosco una botta di gente soprattutto negli Stati Uniti che anche con business a sette cifre continua a tenere ospitati i propri corsi su Teachable per cui oggettivamente vuol dire che al di là dell'aspetto puramente economico cioè alla fine a quelle cifre lì se guadagni il 5-10% in più in meno ti cambia poco tanto il margine sui corsi è molto molto alto non hai tutti i grattacapi dal punto di vista tecnologico sostanzialmente quindi all'inizio io mi concentrerei più che sull'aspetto tecnologico cioè o uso la tecnologia come il mio driver quindi la voglio super figa perché mi voglio proprio distinguere dagli altri perché sono messi malissimo e quindi io sono quello che dal punto di vista di brand è totalmente diverso è totalmente migliore dagli altri ma se siamo tutti più o meno allineati e abbiamo altri punti di forza non starai lì a impazzire col discorso tecnologico cioè investirei il mio tempo le mie risorse sul creare qualcosa di buono sfruttando una piattaforma assolutamente stabile e performante come quella di Teachable insomma l'altra cosa che abbiamo accennato ad un certo punto io mi metterei comunque magari quelli più low cost che userei più come lead generation anche su Udemy cioè tengo tutto su Teachable però compatibilmente diciamo col discorso collegato al prezzo lo metterei su Udemy questo vale se dovete fare lead generation se invece avete la vostra academy interna dove la gente entra o tramite coupon oppure meccanismi IT che tipo membership o roba del genere dimenticatevi Udemy che non supporta tutte queste cose qua e tra l'altro secondo me svilisce un pochino anche il vostro il vostro brand e rimanete su Teachable avete la persona quando avete dieci persone che ci può dedicare due o tre ore al giorno sistema destra e sinistra ne capisce perché comunque devi capire di Wordpress di integrazione di sistemi a quel punto potete anche dire no allora mi creo il mio Wordpress customizzato con LearnDash con tutti i plugin del caso ci spendo 3000 euro di plugin di installazione di configurazione eccetera eccetera poi tanto la persona più o meno è già pagata per tutto il resto devi semplicemente con un filo d'olio e un po' di benzina a farla andare però la macchina diciamo che l'investimento e l'ammortamento della macchina ormai a quel punto ce l'hai ce l'hai già lì insomma e quello ti permette di integrarlo poi con tutti i sistemi possibili immaginabili insomma tanto più grosso diventa secondo me tanto più utile spostarsi in questa direzione però se hai delle membership tipo Giuseppe per il training dei suoi clienti da una parte quindi tu puoi dare i tuoi coupon hanno comprato la Tolla non so se Tolla è Tolla italiano ragazzi è adeguatamente italiano il bidone di vernice hai i tuoi clienti insieme alla tua sales letter vai lì per scoprire come usarlo quindi secondo me è molto comodo ecco un limite al momento secondo me di Teachable rispetto a Udemy per ipotesi è che non esiste un'app dedicata quindi hanno un sito che è visibile da mobile discretamente bene però Udemy ha quell'altro vantaggio che effettivamente l'app è un po' più funzionale cioè si fa delle cose un po' più fighe questo però secondo me lato funzionalità anch'io ho provato a vedere i miei stessi corsi che fino a poco tempo fa erano pubblicati ancora molti sono ancora su Teachable intanto che faccio la migrazione in realtà da mobile li vedi molto bene per cui è più una pippa a volte che altre insomma domanda per Davide tra l'altro scusami chiedo alle persone sono poche perché poi ho avvisato ovviamente all'ultimo momento che sono collegate se via chat volete magari anticipare eh alcune domande sul tema così se ci avanza qualche minuto andiamo anche a rispondere e vi prego al momento di non abilitare audio e video perché altrimenti poi ci salta un po' la registrazione a noi quindi lo possiamo fare tranquillamente alla fine Davide quindi hai capito che nel mio caso non c'è scopo di lucro nella eventuale fruizione di un'area e-learning e quindi volevo capire mi conviene ok il massimo è avere dentro il sito bastamuffa l'area un sottodominio corsi.bastamuffa.com però come detto c'è da lavorarci su nell'immediato visto che non ho altre velleità se non garantire un'esperienza semplicissima alla casalinga che deve seguire delle fasi quindi io devo sostituire delle fac fondamentalmente perché ne ho tantissime fuori categoria mentre invece un e-learning me li fa andare per primo scopriamo cosa è la muffa secondo i rimedi sbagliati uno dopo l'altro quindi riusare i contenuti esistenti per in una versione migliore è affascinante l'idea dell'app e quindi la domanda è da dove vi consigli di iniziare a smanettare da Udemy nel tuo caso Udemy non lo farai proprio anche perché oggettivamente cioè è un tema un po' particolare devi pensare anche che cosa c'è su queste piattaforme cioè Udemy è una piattaforma che al 70% è per smanettoni e nerd quindi con tanta roba di informatica roba molto tecnica poi c'è una parte un po' collegata al business allo sviluppo personale però credo che se facciamo un 60% sia quella roba lì quindi per maschi uomini abbastanza giovani che sono appassionati di quelle discipline lì per intenderci quindi già il tuo corso francamente cioè qualunque cosa sulla muffa se mi parlassi di business come magari dice Valentina potrebbe avere un po' più di senso perché c'è qualche businessman ma io non vado su Udemy per cercare un corso di muffa ah no certo ti ci mando io per il mio utilizzo esatto però mandandolo su lì in realtà il tuo rischio è che sì li mandi lì perché c'è la fruizione però rimediva un po' dispersivo cioè pensi come dire io li mando al mercato perché è comodo perché lo trovano gratis al mercato sì però al mezzo al mercato trovano altri 10 che gli rompono i coglioni perché cercano di vendergli altre cose Udemy è molto bravo a fare marketing quindi comunque ti arriva tanta pubblicità gli sconti a destra e a sinistra quindi c'è il rischio che li mandi su un canale che non è il tuo sul quale non puoi farci comunque del business perché solitanzialmente la gente non è lì per fare della roba affine la tua e quindi non ce la vedo tanto bene cioè il discorso dell'app sì interessante ma secondo me sono più i punti negativi che i punti positivi nel tuo caso nel caso nel caso di Valentina quindi nel tuo io direi teachable senza pensarci un secondo nel caso di Valentina io farei teachable senza pensarci un secondo e un corso o due molto low ticket che potrebbero essere anche corsi fighi ma da mezz'ora che vanno a finire su Udemy e che puoi utilizzare come mezzo di lead generation andando a prendere delle tematiche molto molto specifiche perché perché magari c'è la possibilità di far nascere cioè c'è già del tuo pubblico su Udemy quindi per vari meccanismi di SEO su Udemy di indicizzazione di che altro potrebbe esserci l'opportunità di venire in contatto con questo pubblico gratis sostanzialmente ovviamente terrei comunque tutti i contenuti anche su Teachable cioè tutto tu lo metti su Teachable i due che vuoi usare come lead generation li metti anche su Udemy mi viene da dire oltre che gratis anche con un guadagno minimo quasi una copertura costi sì 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 quello sì però ad esempio se dovessi fare lead generation a pagamento non li manderei mai poi mai su Udemy no certo ovviamente tu guarda tutto su Teachable anche perché su Teachable hai l'opportunità così come se avessi il tuo sito hai l'opportunità di inserire i pixel di retargeting quindi non so se qua vabbè a voi lo sapete cosa sono chi è online collegato pixel di retargeting vuol dire che sostanzialmente c'è la possibilità di tenere tracciato chi è arrivato su una vostra pagina e quindi fargli vedere le classiche pubblicità tipo quando sei andata su Amazon per vedere l'ultimo modello di scarpe Nike voi andate su Facebook e vi arriva la pubblicità delle Nike e dice come cazzo fa Facebook a sapere in realtà è perché c'è il pixel di Amazon su Facebook cioè un pixel di Facebook su Amazon e quindi nel tuo caso paghi non apriamo il discorso GDPR non apriamo il discorso GDPR adesso ma sarebbe anche quello un tema da trattare mi viene l'irritazione soltanto poco doloroso esatto poi ma invece Davide per me Giuseppe è chiarissimo per Toastmaster che è una non profit e come sai anche discutere di 30 euro al mese diventa chissà quanto stiamo spendendo allora per Toastmaster la vedo in realtà benissimo dal punto di vista di Teachable perché puoi comunque fare la roba gratuita e butti tutto su Teachable l'organizzi puoi fare tutto senza problemi quindi la versione di Teachable non è che ti dà limiti dal punto di vista dei numeri di corsi che puoi creare che mi risulti al momento ti dà dei limiti dal punto di vista di funzionalità aggiuntive tipo magari non puoi fare i pacchetti non puoi fare queste cose qua ma tanto voi li date gratuiti e alla fine la gente chi se ne frega sostanzialmente non puoi fare magari dei quiz avanzati ma a voi dei quiz non interessano al massimo gli date il pdf è più il materiale che serve in realtà a prepararla bene vedrei benissimo un corso di public speaking o comunque due o tre cose specifiche perché su Udemy se andate nella sezione public speaking cominciate a trovare un po' di materiale di questo tipo quindi ci farei un serio pensierino da una parte diciamo è più un training interno quindi non è che dovete spiegargli che cacchio è Tosmaster eccetera eccetera perché di fatto l'hanno già comprata dall'altra parte un po' più sapientemente cercherei di mixare il contenuto formativo col contenuto un po' marchettoso perché mentre loro si prendono il corso gratis a 5 euro 10 euro quello che è insieme alle informazioni si portano a casa anche delle meta informazioni subliminali attraverso il quale possono giustamente capire l'importanza e il valore di Tosmasters rispetto a un normale corso di public speaking o un percorso di coaching sul public speaking perché è un pubblico diciamo affine o simile ma non è che siano proprio totalmente sovrapponibili e quindi di fatto vai a sfruttare l'audience di Udemy per portare traffico a Tosmasters che tra l'altro cosa molto figa di Udemy è che una volta che tu hai venduto il corso regalato il corso insomma non cambia niente da questo punto di vista tu puoi fare delle promo e dei follow up via mail non ti danno le mail mentre Teachable diciamo le mail della gente che arriva sono tue cosa importante Udemy non ti dice le mail delle persone che hanno comprato quindi o hai degli escamotage particolari tipo nel corso gli dici guarda che c'è qualche ulteriore bonus battelo a scaricare da qui mandami la mail lascia la mail nei commenti bisognerebbe leggersi bene le policy di Udemy che ogni tanto giustamente se le aggiornano da questo punto di vista può essere più che valida come cosa dall'altra ti dicono o meglio ti danno la possibilità di fare una mailing list cioè un broadcast quindi a spedire una mail a tutte le persone che ci sono iscritte al tuo corso quindi io sono iscritto a vari corsi ogni tanto o per il Black Friday o perché è uscito il loro nuovo corso o perché c'è stato un aggiornamento dei contenuti ti arriva la mail da parte loro e questo oggettivamente è molto molto utile perché ti permette di mantenere comunque un contatto con il pubblico e di di sfruttare il bacino di utenza di Udemy che di fatto è gratis per voi quindi per Toastmasters Udemy mini corso un po' più marchettoso con delle cose interessanti da mettere dentro che porta a Toastmasters a una landing page su Toastmasters venite che ne so alla piartina di Google dove ci sono tutti i club di Toastmasters in Italia poi ve la giocate bene su questa cosa per Valentina Teachable con un pizzico di Udemy per Mr. Bastamuffa solo Teachable ti darà forza e grinta volontà bello direi che ne sappiamo più di prima perché noi eravamo partiti cerchiamo il plugin gratuito tanto lo buttiamo su Word preso il sito e ce l'abbiamo già in realtà avremmo sofferto le pene dell'inferno perché è molto molto complesso fare il macchinario se anche sta su non sai per quanto tempo sta su cioè è molto delicato perché sono plugin complessi poi ti fai prendere facilmente la mano e quindi come ah ma metto questo ma questo mi va in conflitto con quest'altro poi non riesci personalizzarli dal punto di vorresti ma non sai bene come personalizzarli graficamente perché magari il template non rispecca completamente il brand di Toastmasters se lo volessi fare ovviamente e quindi questo potrebbe diventare un casino devi perderci cioè lì dove tutti lo fanno comunque gratis ad amore dei è vero che c'è qualcuno un po' più praticone dentro Toastmasters su queste cose però realmente ti dà del contenuto del valore aggiuntivo secondo me in partenza anche no nel momento in cui avete scoperto che questa cosa è fighissima funziona tantissimo sono entrate mille persone e vi sono arrivati i primi feedback e c'è qualche budget in più magari potete dire ok spostiamo tutto dall'altra parte secondo me i soldi meglio tenersi in tasca ovvero è possibile sfruttando delle soluzioni più low cost addirittura gratuite e investendo dove c'è effettivamente il come dire in ottica 80-20 io faccio il 20 per ottenere l'80 mettere adesso i soldi dentro una piattaforma di LMS secondo me sarebbe mettere i soldi nell'80 per ottenere il 20 c'è la possibilità di fare una trial su Teachable adesso sto guardando e ci sono solo le tre fasce di prezzo puoi fare un corso gratuito su Teachable o meglio puoi fare corsi totalmente gratuiti oppure puoi fare delle lezioni di corsi gratuiti quindi la gente si iscrive al tuo corso perché vede tipo quello che c'era su Udemy o anche su corsi.it entro mi iscrivo diciamo di fatto al corso vedo due o tre dodici lezioni gratuite poi se mi basta va bene così se voglio acquistare il corso costa così te lo compri punto e basta non c'è la possibilità di fare la trial in questo caso devi utilizzare degli scamotaggi quindi comunque su Teachable vedo che ci sono le tre licenze 39-99 lì la Enterprise io per dirvela tutta sono ancora quella da 39 e non credo di passare a quella successiva perché passare a quella successiva devi avere o magari molto più docenti all'interno e quindi puoi avere un senso oppure molte più persone o delle cose particolari a livello di certificazione di curriculum tipo ti fanno loro il banner che ti dice il certificate che sei diventato Toastmasters Gold Active Member di Basta Muff eccetera eccetera c'è delle cose in più ma a sto punto se comincia a diventare così è facile che i numeri siano talmente elevati da giustificare il passaggio da un'altra parte sostanzialmente almeno tra 39-99 volte ci puoi rimanere che ne so un anno sei mesi un anno in ottica di trasferire tutte le cose dall'altra parte perché a volte poi spostarli non è una cosa così banale tutti i corsi perché c'è la gente da una parte che dovrebbe continuare ad avere l'accesso dall'altra è una discreta rottura di palle fare le migrazioni per cui secondo me Teachable al momento Teachable o Thinkific io consiglio Teachable perché è anche più semplice dal punto di vista di interfaccia ti permette di avere come dire più buffer sia verso l'alto che verso il basso quindi vuoi spendere poco ti do il giusto vuoi spendere un po' di più ti do il giusto senza avere la necessità di cambiare repentinamente la piattaforma di riferimento insomma quindi per entrambi secondo me vi va più che bene ma io in generale mediamente lo consiglio lo consiglio più o meno tutti cioè in parallelo aiudemi per quel discorso di prima cioè nel caso di determinati settori può avere senso sfruttare il bacino d'utenza di Udemy per portarsi gente o quantomeno fare un minimo ad esempio io Gianluca Sidoti che è un lavoro nel mondo del trading lui ha pubblicato per esempio tutti i suoi corsi su Udemy da sempre quindi comincia con uno è chiaro che quando ne hai messi su tre dopo il gioco forza diventa lì però il suo business in realtà anche lì non è la vendita tanto dei videocorsi altri sistemi dietro quindi li ha messi lì ma so che credo che poi li stia spostando in parallelo anche lui in un'academia interna quindi c'è sempre un po' di periodo di transizione diciamo che in molti casi con certi pubblici di riferimento può essere una sponda interessante per sfruttare il pubblico a costo zero perché loro poi sono bravi dal punto di vista del marketing quindi aiuta tanto questa cosa vedo se voi avete altre domande ragazzi vedo una domanda in chat o nel frattempo leggo la domanda della chat e poi ve la il buon Manuele Marini da Malta esiste un profilo tipo di chi cerca i corsi online oppure totalmente vario senti Manue vuoi venire a dirmelo in diretta così mi spieghi meglio sta cosa ti sblocco la la mia curiosità è capire se il profilo esiste un profilo di età di tipologia di persone che cercano di video corsi online perché tendenzialmente la tecnologia è più per i giovani però magari sbaglio e se magari ci sono aree che possono essere più interessanti settori che possono essere interessanti di altri lo chiedo perché non ho esperienza viene bombardato da tanta proposta ma poi dietro i numeri dove stanno questa è la mia curiosità ok i numeri stanno che fondamentalmente quando tu cominci ad avere un certo tipo di traffico eventualmente sul tuo sito tramite l'anavitix cominci a capire realmente quali sono questi numeri se tu vai su Udemy hai magari un profilo che è un po' più uomo che donna che va tra i 25 e i 45 e i 50 anni indicativamente come cosa di Udemy e corsi.it credo che non si discosti molto insomma da questa cosa in generale il mondo della formazione online quindi sotto i 20 oltre i 50 non che perché ormai anch'io sono quasi manca ancora un po' però diciamo che da questo punto di vista 50 55 oltre comincia a diventare un pelo più difficile quindi questo se dovessi dirti punta a colpo sicuro starei tra 25 e 55 mediamente poi dipende anche da che cosa vai a raccontare qual è il tuo il tuo target cioè se tu parli di problemi di come dire di prostata per ipotesi magari il 25 anno ci verrebbe anche però non gliene può fregare di meno fino a che non è sensibile a questo tipo di problema così come problemi di meno pausa gli uomini ti rigiochi completamente e anzi in realtà potresti giocartene anche gli uomini dicendo c'è la donna che mi rompe i maroni per via della menopausa quindi aiuto l'uomo a risolvere i problemi ma questa è più una roba da marketing in realtà che da corsista vero e proprio però giustamente diciamo gli uomini te li butti via e le donne te le guardi dai 40 ai 50 indicativamente quindi più che secondo me la tipologia di persona che segui i videocorsi seguirei proprio e cercherai di capire chi è il tuo mercato dal punto di vista io faccio sempre tre tipi di analisi un'analisi demografica un'analisi fisiografica e un'analisi psicografica diciamo quella che ha a che fare con l'età è ovviamente quella demografica e se vai su siti tipo google oppure usi bene facebook insights comincia a avere un'indicazione di massima di qual è l'età di qual è il sesso di dove vanno magari a mettere like su alcune pagine quindi riesci a capire anche gli interessi correlati al tuo e questo ti permette poi di fare anche del marketing non è che ci sia qualcuno appassionato di videocorsi è chiaro che tu se segui delle persone questo lo vedi soprattutto tramite facebook e facebook insights se tu segui delle persone che all'interno del loro modello di business vendono videocorsi a quel punto tendenzialmente sai che la persona che potrebbe essere dentro il tuo target è suscettibile in positivo alla vendita o quantomeno alla fruizione di un videocorso quindi che ne so ma sta muffa al momento non vende videocorsi nel momento in cui comincerà a vendere videocorsi o a proporre videocorsi la gente segue ma sta muffa e comincia a dire ah è così Toastmasters è tutto sul mondo del public speaking al momento però non esiste in Italia un videocorso di Toastmasters su questa cosa qua perché anche il modello di business è leggermente differente però mai direi mai si sta spostando verso l'online perché l'online non deve servire a portare la gente offline e l'offline a portarle online perché magari io vengo a Toastmasters partecipo all'evento però voglio anche qualcosa in più perché a casa voglio studiare e allora non ho un manuale a parte quelli scritti di Toastmasters o un corso di Toastmasters quindi potrebbe essere un'ottima sinergia online offline non è che detto che parto online devo stare online offline devo rimanere offline si possono fare tranquillamente gli scambi di coppia da questo punto di vista l'altra cosa quindi dal punto di vista del dov'è la gente chiama i videocorsi io ti direi proprio questo aspetto qua così come ovviamente se vai su YouTube tutto il mondo di gente che lavora su YouTube in generale e segue di YouTuber o canale di YouTube è gente che dal punto di vista della fruizione è più allineata al discorso video quindi per esempio mia moglie segue determinate cose su Facebook più che su YouTube io invece vivo il 90% del tempo su YouTube perché ormai mi sono rotto le scatole di Facebook quindi se io voglio puntare a un pubblico punterei magari più a un pubblico di YouTuber o di Twitter ipoteticamente che è un pubblico di Facebook perché perché so che la gente è già abituata a seguire video si rompe meno le scatole e quindi tendenzialmente dovrei avere come dire un po' più facile il gioco sempre Emanuele qual è il rischio di diffusione incontrata dei corsi via internet facendo così cadere il modello di business pagamento online del servizio anche solo la copertura dei costi di creazione e distribuzione potrebbe essere a rischio cosa dice l'esperienza ve la ridico meglio perché scusate l'ho letta proprio da cani quindi come insegnano i tuoi smaster quando mi fanno una domanda voi la rileggete perché non sapete mai dall'altra parte se l'hanno capita o no o sentita o no quindi qual è il rischio di diffusione incontrata dei corsi via internet facendo così cadere il modello di business a pagamento online del servizio anche solo la copertura dei costi di creazione e di distribuzione potrebbe essere a rischio che cosa dice l'esperienza l'esperienza mia e di quello che ho visto in molte cose americane è che in realtà tutto segue un po' la tua scala del valore Emanuele cioè quando tu parti da zero e di fatto la concorrenza ce n'è o ce n'è poca tu puoi vendere un prodotto a un prezzo sostanzialmente che decidi tu o quantomeno compatibile col mercato con le possibilità del mercato e a quel punto lo vendi nel momento in cui arrivano altri competitor la differenziazione devi farla ovviamente sulla delivery del prodotto finale però non puoi più fare a meno cioè non puoi più dire ok sono in una situazione di monopolio per cui decido io detto legge io purtroppo se oggi sei telecom è arrivata Omnitel vent'anni fa romperi o i maroni e quindi non è che puoi dire eh ma io faccio ancora telecom e quant'altro perché tanto non ci sono più no gli altri purtroppo adesso ci sono quindi anche se siete soltanto in due dovrevi spartire il mercato bisogna capire perché la gente dovrebbe comprare voi anziché gli altri quindi a questo punto se tu riesci a dargli un qualcosa di più di livello ovviamente il livello di prezzo di solito aumenta anche quindi sfrutti magari quel corso lì che prima era pagamento come un corso non tanto sotto costo quanto come un meccanismo di lead generation che è un'ipotesi numero uno prendi tutto il modello per esempio di Russell Branson di ClickFunnels e quant'altro fanno tanti corsi poi loro di marketing a volte anche gratuiti perché poi dopo hanno dei corsi hanno dei mastermind a pagamento quindi il loro modello di business si scala verso l'alto secondo che è una cosa che nel tuo caso quindi nel caso finanziario è molto molto interessante molte persone vogliono il corso sì ma fino a un certo punto perché quello che la gente vorrebbe sapere molti non dico tutti nel mondo finanziario non è sapere quando sale la borsa e quando scena ma è sapere più o meno esattamente che cosa devono fare adesso nei prossimi dieci minuti domani a livello di comprovendo azioni te la semplifico e magari tu hai sicuramente un'esperienza più ampia al riguardo però un servizio tipo i segnali di trading per intenderci è qualcosa che tu non vai a regalare ma puoi vendere dietro abbonamento dietro una membership mensile annuale o quant'altro e in realtà sfrutti il videocorso per portarti gente all'interno del tuo del tuo funnel farvi capire che comunque sei una persona che ne sa autorevole quindi quando gli darai dei servizi funziona così e funziona bene ad esempio tanti tante piattaforme online che vendono o forniscono software tipo clickfunnels tipo lo stesso trello tipo servizi di project management anche ci sono due o tre anche teachable stessa loro ci guadagnano sul software as a service quindi sulla piattaforma ma per portare gente all'interno della piattaforma ti vanno a creare dei corsi produttivi a volte fatti anche molto bene devo dire su come si gestisce un progetto come si crea un corso come si fa un video perché perché in realtà il loro modello di business è funzionale il gratuito è funzionale ti porto gente all'interno della membership della mia piattaforma che ti vendo settimanalmente o mensilmente quindi dipende proprio tu a che livello stai in qualche modo della piramide alimentare dell'online se partite siete in pochi potete fare quello che volete come sempre se siete in tanti gioco forza qualcosa che magari prima tu potevi vendere diventa ormai di dominio pubblico quindi tanto vale darlo come cosa di valore per la quale una volta la gente aveva pagato mille euro lo do gratis la gente che percepisce comunque del valore e mille euro li devo fare purtroppo da un'altra parte ma questo purtroppo o per fortuna fa parte diciamo delle regole dell'evoluzione del business normale cioè tempo un anno anche i meccanismi di degeneration di basta muffa se domani ne arrivano tre come te Giuseppe tu che cazzo fai cioè prima facevi in un modo e facevi video adesso farai il corso domani gli manderai le tolle di muffa gratuita perché avrai trovato un altro meccanismo per fare business magari io per fargli rimettere i prodotti ovviamente le certificazioni diventi a un altro livello e parli di certificazioni quindi ti certifichi come il basta muffar del mondo insomma purtroppo fa parte dell'evoluzione naturale del business quindi ci piacerebbe quando siamo noi con il coltello dalla parte del manico che le cose rimanessero così che tutto rimanesse così però purtroppo non sarebbe bello quando siamo noi avere la lama dalla parte il coltello dalla parte della lama quindi purtroppo c'è da lavorare su questo aspetto bello diciamo che ora bisogna rimboccarsi le mani che fare un po' di test perché siamo probabilmente gli unici nella nostra nicchia che stiamo pensando a una soluzione del genere visto che poi al momento nel mio caso io non devo vendere nulla ma devo solo assicurarmi che questa cosa sia fruibile e sostitutiva di un altro mezzo che adesso è il manuale di carta il blog con tre video uno sotto l'altro perché noi del resto Davide siamo arrivati a quest'idea dicendoci ok dobbiamo fare dei video prima cominciamo a raccogliere i video che abbiamo sì però due righe di test ce li vuoi mettere allora fai un articolo del blog con sette video e poi dopo te lo vedi davanti e dici ma questo è lo schema di una area learning e quindi l'hanno già inventata esatto esatto ma molto meglio perché appunto puoi alternare una pillolina con un po' di test l'audio c'è tutti i mezzi possibili puoi buttare lì dentro ma tu tra l'altro poi hai anche un non un business particolare però hai un business dove come dire non è che esista un mercato latente della gente che potrebbe essere interessata alla muffa o a levarsi la muffa di casa cioè finché non scopro mia moglie che mi fa le corda uno non non pensa a pensare all'investigatore privato finché non trovo la muffa in casa per me la muffa come problema esiste soltanto sul formaggio fine del cinema quindi è chiaro che nel momento in cui entro sono tutto intrippato come quando c'è il mal di schiena il mal di schiena ci pensi giustamente quando sei rimasto bloccato non è che fai troppo lavoro preventivo sul mal di schiena quindi sei più simile a questa cosa qua la gente compra la tolla di sbiancante di antimuffer numero uno numero due numero tre numero quattro da parte tua poi giustamente gli arriva a casa e o gli dai la tre cani oppure gli dai un manuale facilmente fruibile che in pochi secondi insomma anche a una bambina come era capitato nel mio caso che mi ero messo con lei a spendellare sulla parete sia facilmente anche divertente perché alla fine è un'enorme rottura di palle trovarsi la muffa in casa però se fatto con i bambini e spesso magari lo fai anche perché ci sono i bambini in casa quindi potrebbero avere problemi di respirazione o che altro se ho imparato bene la lezione quindi potrebbe essere anche un modo divertente per fare partecipare anche loro a questa diciamo campagna crociata contro la per la liberazione della muffa insomma quindi come tributo per quello che hai fatto e tra l'altro scusa chiudo non puoi secondo me nemmeno nel tuo caso Valentina no perché magari loro hanno una cosa un po' più lungo termine loro proseguono sia lato Toastmasters ovviamente che è una cosa in divenire che lato la sua azienda perché magari faccio un progetto domani ne faccio un altro un'altra cosa da proteggere quindi è più una cosa dopo l'altra la muffa la vedo lì l'ho uccisa sulla parete io spero che per sei anni non ti vedo più cazzo non ho capito quindi mi sono rotto la schiena io spero di non andarci più mentre da Valentina spero di andarci perché in realtà questa cosa vuol dire che io ho creato un altro prodotto quindi il mio business sta crescendo se cresce la muffa è un po' un problema invece nel tuo caso non è ricorrente esatto quindi c'è voglio fare la gamification e tutto quello che vuoi cioè in realtà una volta che ho tolto la muffa magari ti puoi fare un follow up cosa che ti consiglio di fare dopo tre mesi sei mesi quello che è per capire se la cosa è andata bene se magari gli fai un trattamento così però il grosso l'hai fatto cioè oggettivamente non è che la gente poi si sveglia di notte e dice ma sa che vado a vedere di nuovo che cosa ha fatto quel simpatico del sito di Giuseppe sul sito di Mattia mi viene frega più un cazzo la gente quindi deve essere un'esperienza indimenticabile in quel momento dove hai un problema da risolvere e poi magari ci scappa la referenza la testimonianza è come quando vai in discoteca da ogni lasciata è persa e se ti va bene ti danno la testimonianza ci sono tanti modelli di business però punibili esatto però si è così bello che questa piattaforma però in realtà risponde a tutte le esigenze quindi io come minimo ti debbo di fare un tentativo per quello che mi hai insegnato e raccontato anche poi come cliente perché possiamo rendere la vita più semplice alle persone perché qui veramente non c'è scopo di luogo è solo per alzare l'asticella dell'esperienza che come hai visto ci teniamo particolarmente sì tra l'altro poi tu la puoi fare in entrambi i casi cioè la puoi fare ai clienti che devono sfruttare il tutto e lo puoi fare ai tuoi rivenditori le persone che gli imbianchini diciamo di turno tipo quello di Rimini dove ero stato io dove diventa la tua area interna di learning quindi alcune cose che puoi dire a loro ovviamente non le dice quelli altri come venderlo come proporlo a me che sono un cliente finale non me ne frega niente però giustamente al cliente finale interessa capire di più altri tipi di concetti insomma la cosa del mantenimento va detta in entrambi cioè uno più nell'ottica della vendita ci faccio bella figura magari gli faccio upselling o qualche cosa e quindi diventi più un consulente marketer per gli imbianchini dall'altra parte sei più nel mondo del benessere paradossalmente che altro insomma fai concorrenza ai ventolina alle cose dell'asma e sei contro sei contro Big Pharma devo fare una roba basta muffa contro Big Pharma una roba del genere abbiamo trovato il nostro nuovo perché dai esatto esatto bello che dirti ti ringrazio Davide perché manderò ovviamente il link affiliato di Teachable questo mi sembra vabbè certo poi si sta girando poi il codice esatto esatto sotto banco ti giro il codice vedo che qua appunto nella nella cosa non ci sono altre domande ragazzi Emanuele non so se ti ho risposto poi casomai ci sentiamo direttamente anche per altri per altri per altre strade saluto anche Ivano saluti da Malta presto bravo Emanuele sei bene tu e nient'altro voi avete altre cose da chiedere Toastmasters Valentina con con Prufli Prufi Prufi no in questo momento non me ne vengono non me ne vengono in mente altre anche perché credo che poi bisogna anche iniziare a impostare il lavoro provare e probabilmente lì ci saranno altre domande potrebbe essere lo spunto per una nuova diretta chissà possiamo fare anche una roba tecnica del tipo che ne so come ti butto su un sito di Teachable da zero che potrebbe tornare comunque comodo a me all'interno a tenere all'interno di Crea Alto Corso come come dire corsi tecnici o la parte tecnica io in realtà seguo un po' più la parte strategica per cui i corsi tecnici hanno un doppio problema in generale che sono un problema da entrambe come dire una medaglia a due facce c'è l'opportunità perché cambia tanto la tecnologia quindi tu puoi trovare una tonnellata la gente vuole sapere quella singola cosa lì come funziona e va bene quindi diciamo che hai sempre tanto materiale di cui parlare il problema è che è un materiale che diventa facilmente obsoleto quindi è vero che se la racconti bene comunque spieghi le cose riesci a fargli capire dove è la parte strategica e dove è la parte tecnica estremamente pratica e che diventa obsoleta e che una volta che hai capito l'andazzo fondamentalmente ne viene a capo da solo però insomma c'è da pensarci bene per cui anche io quando ho i ragazzi che mi chiedono che tipi di corsi vado a creare cioè se sei veramente tecnico e hai tempo a dedicarli puoi fare dei corsi tecnici però soprattutto nell'ottica di ci faccio il mio primo corso voglio capire come funziona io punto sempre un po' a dare come suggerimento un corso evergreen perché è un corso che puoi aggiornare tranquillamente nel tempo dal punto di vista magari degli esempi però il grosso rimane lo stesso se io ieri facevo un corso di teachable magari vado tra sei mesi teachable mi è cambiato tantissimo io l'avevo fatto di thinkific tre anni fa un'altra cosa concetto è lo stesso però capisci se ti do anche gratis un corso di thinkific che voglio usare come lead generation in realtà ci faccio una figura del cacchio perché la gente lo guarda però non iscriversi dice ma non è niente uguale eh ragazzi è cambiato tutto per cui cioè ho la pazienza magari di fare dei corsi più brevi in questo caso sì potrebbe aver senso perché poi sono più veloci da aggiornare ma si faccio il super tomo su Adobe InDesign da 40 ore cioè uh a quanto cacchio lo devi vendere a quante persone lo devi vendere e questo ti cambia ogni 2x3 cioè oggettivamente era un po' il problema che avevamo con molti corsi tecnici a corsi.it cioè devi avere qualcuno e un bacino d'utenza talmente alto da giustificare l'investimento di tempo tuo sostanzialmente altrimenti il gioco non vale la candela su molti aspetti la muffa ha il vantaggio che più o meno credo che sia tipo 5.000 anni che è quella quindi bene o male poi magari abbiamo capito che anche i corsi tecnici fanno la muffa però ne demostra ne cazzo che la gente fa public speaking per cui sì c'è la lavagna luminosa posso usare la lavagna con i pennarelli i gessetti posso fare i public speaking online con zoom eccetera eccetera però il grosso del public speaking è sostanzialmente quello è la cicerone che c'è dai cicerone esatto sì sì cicerone assolutamente poi prima c'era mia suocera sono ancora quindi sì dobbiamo rimanere nel settore evergreen proprio perché almeno secondo me uno zoccolo duro di corso evergreen e poi magari usare tanti piccoli corsettini da un quarto d'ora mezz'oretta che crei con una certa facilità che ti servono più come lead generation che come materiale tosto poi dipende dal modello di business da quanta persone c'hai da quanto è intrippata la gente che vi segue e tutto il resto però non investirei del tempo a fare un corso da 30 ore su wordpress adesso sinceramente perché cambia troppo di frequente a meno che ti chiami wordpress e hai già 100.000 utenti e allora o Toastmaster che ha comunque pagano per fare il corso allora un'altra cosa capisce quando c'hai 100.000 persone che ti seguono adesso non so un nome a caso Marco Montemagno per intenderci al di là degli aspetti di business che possono piacere o non piacere hai milioni di persone che ti seguono Chiara Ferragno milioni di persone che ti seguono corso bello corso brutto per amor del cielo poi possiamo entrare nel discorso però se io parlo comunque mi ascolta un milione di persone vuoi che di queste un milione se gliela giochi bene mille non ti comprino il corso sì ma se ne hai 100 è vero che sono 100 che magari sono super targettizzati però sono sempre 100 quindi i numeri contano le dimensioni contano dal punto di vista della creazione dei corsi online a un certo livello insomma così come tra l'altro anche persone che abbiamo comuni amici comuni o formatori comuni che abbiamo seguito con Giuseppe qualunque cosa più o meno vai a proporre che sia il nuovo corso anche su una roba di cui non hai parlato semplicemente perché tu stai seguendo il guru di turno se il guru ti parla di come scrive un libro anche se non ha mai scritto lui un libro tu lo compri perché segui il guru cioè c'è questo effetto salone o robe del genere questa cosa è molto figa ma quando hai questi numeri perché se Giuseppe domani scrive un corso un libro su come scrivere un libro non se lo incula nessuno di striscio così come se Valentina scrive un libro su come buttarvi non te la si fida nessuno purtroppo quando hai dei numeri hai anche la possibilità di fare delle partnership con altre persone quindi aiuta tanto è chiaro che prima di arrivare a quel numero si deve passare da da un mazzo discreto che uno deve farsi insomma sempre senza buttare via la qualità perché poi fare un corso di qualità soprattutto se lo vai a vendere secondo me aiuta tanto puoi a creare anche quel passaparola positivo e se anche se lo crei gratuito da usare come lead generation tipo Toastmasters o tipo tuo per altre cose deve essere bellino soprattutto se è corto e lo vuoi usare come lead generation secondo me va un po' più studiato qua diventa ancora più complessa la cosa una modalità di interazione tipo YouTube e meno tipo videocorso perché la gente sta ancora valutandoti e quindi adesso che hanno una soglia di attenzione molto bassa sono abituati a vedere i video su YouTube con gli effetti sonori le dissolvenze le cose che entrano gli effetti speciali cose del genere diventa difficile ragazzi lo dico anche per me diventa difficile perché purtroppo ti misuri con uno standard che è molto alto poi le stesse persone magari facendo un corso fanno un corso nel cacchio però quando vanno in realtà in modalità lead generation o creo contenuti io guardo me contro te cioè mi guardo nel senso che le guardano le figlie o uno delle figlie l'altro li odi ma uno li ama quindi fanno video a dieci minuti però credo che ormai con lo staff ci stiano dietro tre ore quattro ore per fare un video di dieci minuti e se tu hai un'azienda da portare avanti da solo come cazzo fai a perdere quattro ore per fare un video di dieci minuti non ha senso però interessante che se tu vai a vederli a distanza di cinque anni sei anni da quando hanno iniziato tutto quello che vedi adesso dal punto di vista del montaggio prima non c'era non c'era l'audio erano loro due che si facevano esatto cioè cominci così come Gary V una volta ed era molto più poi arriva uno comincia a metterci questo comincia a metterci quell'altro mamma mia c'è un po' di montaggio c'è un amico che mi dà una mano che io aiuto per qualcos'altro e diventa tutto un po' una cosa così attacchi un pezzettino per volta e io dico quando fai il corso fai il livello uno ti prendi feedback poi fai il livello due sistemi tutte le grosse cazzate che hai fatto e poi lavori magari a livello di interazione a livello di gamification se hai la possibilità di farlo però non è che pensi di fare il Mosè di Michelangelo al primo corso secondo me anche lui sarà partito da qualcosa di molto più semplice decisamente sì grazie Davide io non ho altre domande non so se a Giuseppe intanto ne sono venuto anche io adesso devo provare adesso a smanettare ne parlerò col mio team IT e dire ragazzi ora pensiamo di studiamo la piattaforma vediamo cosa possiamo fare ti terrò ovviamente aggiornato ma comunque ormai il dato è tratto cioè qualcosa bisognerà sfornare entro i fini anno perfetto quindi io da Genere Evaluator passo la parola al Toastmaster of the Day Giuseppe Tringali per chiudere la diretta beh noi ringraziamo il padrone di casa Davide Rampotti di Crea il tuo corso che ci ha letteralmente ceduto tutta la sua sapienza senza limiti e speriamo di tornare per una nuova puntata e ringraziamo per aver seguito questa diretta grazie a tutti grazie a tutti